Dal gruppo per riemergere in una trasferta che non regala gioie da un decennio. Domenica alle 12 la Scandone tornerà a Reggio Emilia con i ricordi della semifinale Scudetto e con un ultimo successo datato 2007 al Palabigi. Abbiamo 3-4 spunti, 3-4 situazioni tecniche in cui dobbiamo lavorare, in cui dobbiamo lavorare meglio. Sono stati due giorni molto impegnativi sotto il punto di vista dello staff per poter provare a migliorare un pochino le spaziature con Raglaff e con Logan, a fare meglio i blocchi, ad avere un po' più di movimento nella palla quando arriva un po' sbasso. Però abbiamo questa partita e l'affrontiamo con grande voglia, con una dedizione. È tutto aperto, ci si gioca tanto, mancano 9 giornate, andiamo in un campo caldo. Sempre domenica alle 18.15, Caserta sfiderà una Cantù rigenerata dalla cura Re Calcati. I brianzoli vincenti nell'ultimo turno con la Reggiana proveranno al pari della Juve ad inserirsi nell'ultima chance utile per la corsa play-off. Troveremo l'ambiente abituale di Caserta molto caldo che spinge la loro squadra è una squadra che ha risorse tali da poter crearci dei problemi, perché è una squadra che ha all'interno alcuni giocatori di assoluto talento, alcuni giocatori in grado da soli di poter risolvere qualsiasi situazione di difficoltà offensiva. Grazie a tutti.